Dopo i sigili scattati ieri per un centro scommesse illegale di Torre Annunziata, questa mattina l'autorità giudiziaria ha denunciato quattro persone per scommesse illegali a Pozzoli IV, chiudendo due centri privi delle previste autorizzazioni e con collegamento a un sito internet non legittimato ad operare sul territorio italiano facente capo a una libratore estero. All'interno di una delle due sale sequestrate inoltre mancava la prevista comunicazione affissa sui pericoli derivanti dalla dipendenza patologica da gioco, 50.000 euro la sanzione amministrativa a carico del gestore. I sigilli sono stati apposti dai finanzieri della compagnia di Pozzoli con l'ausilio di funzionari delle agenzie delle dogane e dei monopoli di Napoli a seguito di un'operazione volta a contrastare il fenomeno degli illeciti in il settore delle scommesse, quello diffuso della ludopatia. Il sequestro ha riguardato in particolare un locale di 40 metri quadri, due aree per l'illecita raccolta delle scommesse, computer stampanti termiche per la produzione delle ricevute da gioco e ancora fotocopiatrici pro memoria di scommesse telematiche ricevute di giocate effettuate con relativi pagamenti.